Oggi in piazza è importante che gli studenti e le studentesse prendano parola, hanno chiuso le nostre scuole, ci hanno rimandato a casa, dicendoci che i mezzi erano straffollati, dicendoci che non c'era un modo migliore per gestire il problema della scuola, dicendoci che era impossibile risolvere, dicendoci che la pandemia è stata gestita al meglio, vogliamo dirlo chiaramente, è stata gestita al meglio per gli interessi dei padroni, gli studenti e i lavoratori non hanno avuto nessuna. Credo garanzia da questa gestione della pandemia, chi ci veniva a parlare del fatto che la crisi non poteva essere gestita meglio, erano le stesse persone che nel Lazio hanno chiuso gli ospedali, parliamo del PD, parliamo di chi ha enormi responsabilità politiche, nello sterminio che ha causato il Covid-19 e in tutte le questioni relative alla scuola e alla sanità. Parliamo di persone che ci vengono a dire che le nostre scuole erano state rieperte in sicurezza e ci impongono a chiudere dopo un mese, perché non era possibile garantire il diritto alla salute all'interno di scuole straffollate, che da anni vivevano il problema dei tagli. Abbiamo bisogno di costruire un'alternativa, abbiamo bisogno di lottare a partire da queste piazze e dobbiamo farlo lontani da chi non fa altro che affacciare le scelte di un governo scellerato e sempre dalla parte dei padroni. Ricordiamo che l'attacco in corso ha il diritto allo studio, ha il diritto al lavoro, è senza precedenti. Quando Poder Meccanica faceva saltare il tavolo delle trattative con i metalmeccatici, i sindacati confederati chiamavano quattro ore di sciopero, solo quattro ore di sciopero. Noi siamo pronti a scioperare oggi, a scioperare domani, a scioperare sempre. Ci riprendiamo la scuola, ci riprendiamo la salute, ci riprendiamo il diritto al lavoro. Gli faremo pagare tutto. A partire da questa crisi ci riprenderemo tutto. Non siamo disposti a fare un passo indietro, perché mentre questi signori non investivano niente per i trasporti, hanno investito due miliardi e mezzo per i cacciabombardiani. E noi queste contraddizioni le facciamo uscire, perché questo sistema ha un nome, si chiama capitalismo. Questi non sono errori, sono scelte politiche precise di chi vuole annientare i nostri diritti. E noi non lo permetteremo. Grazie a tutti i nostri diritti.